Ma, un, un, allora, questa è una doppietta intanto, dai, 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 ma no, sottolineiamo la doppietta, dai, di un personaggio, doppietta con, doppietta con, doppietta con il personaggio dell'anno, sì, sì, è bello, è, accidenti, è un'annata d'oro, eh, tu parli sempre del pubblico, il pubblico, cioè questo, hai questo rapporto speciale col pubblico a casa e col telefono, perché tu sei sempre, sì, le sue telefonate sono uno spettacolo, è, sono uno spettacolo, allora, siccome noi sappiamo che il pubblico ti adora, proprio perché sto, questo è performance, e tra l'altro c'è stato un gruppo, proprio di tuoi ammiratori, che ci hanno chiesto di poterti parlare, per telefono, non fare le sopracciglia così, a piano, non c'è un lato dove ho messo, non c'è un lato dove ho messo, non ci si fanno da grondaio, non ti preoccupare, dai, no, guarda, abbiamo in linea, pronto? Pronto? Scusa, come ti chiami? Io? Stefano. E di cognome? Bonolis? No. Stefano! Ciao! Sì Stefano Ciao amore Ciao Come stai? Bene Anch'io Spero di vederti presto Sì, tanti auguri Anche a te amore mio, grazie davvero C'è Martina? Sì, aspetta un attimo Grazie Ciao Non te lo prendere con noi, ci è sembrato carino Fatti parlare con i bambini dagli occhi Martina, you there? Hi Mark Hi Hi Mara What? What? Are you good? Yeah Yeah, thanks for calling me tonight It was a strange night for us in Italy I got a big cat Oh, oh, tanti auguri Daddy was so good Non lo vede, è sul telefono Big cat Is a Is a I'll call you tonight after this Okay, Mart Okay Bye bye Big kiss Big kiss, Martina Ti voglio bene Ciao 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 Grazie Grazie Okay Paolo Ciao Paolo Bononis Grazie a congratulazioni Bravo E tocca a te Che ora è? Ah, siamo in perfetto orario D'altra parte